Avevamo riportato lo scorso giovedì 3 ottobre la notizia del grave incidente stradale che era avvenuto sulla strada tra Rosalina Mare e la strada Romea, dove un giovane di 21 anni è rimasto ferito in modo molto importante dopo che ha perso il controllo della sua Porsche 718 Boxster ed è finito a schiantarsi contro un albero. Il giovane che è stato poi estratto dalle ramiere del Vigelfuoco e trasportato in codice rosso all'ospedale di Padova continua a lottare in ospedale sotto un'attenta osservazione medica. Attualmente il giovane è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di reanimazione di Padova dove appunto era stato trasportato in ricottolo ed è monitorato per le gravi lesioni riportate, tra cui fratture multiple e un importante quadro neurologico che richiede un attento monitoraggio da parte dei medici specialisti. A seguito dell'incidente, subito al primo giorno, numerosissimi amici dei ragazzi e conoscenti della famiglia si sono riversati sulle pagine social del network Chio Giazzura esprimendo vicinanza e incoraggiamento. Tantissimi messaggi di affetto, di conforto e di solidità che tante persone che pregano per questo ragazzo che possa ristabilirsi al più presto. Al Beffed potete gustare il delizioso panino burger con galletto da 150 grammi, accompagnato da fresca rucola, gustosa e saporita cipolla, crispi e formaggio con salsa peppers smoke. Il tutto a soli 13 euro fino al 3 ottobre. Beffed ti aspetta con prodotti di alta qualità e con altre fantastiche promozioni. Beffed, al Parco Commerciale Clodì sulla strada statale Romea, località Brondolo di Chioggia. Grazie a tutti.